Avete fatto male a salvarmi ieri? Dimmi se sbaglia, Bruno. Non pensavo fossi figlio di un artista. Cosa ci fai qui? Ti sto pedinando, non ti preoccupare. Cosa ci fai nella mia macchina? Mi porti a casa, per favore. Sai benissimo che lo odiavo. Come tutti quelli che lui ricatta, compreso te. Perché mi tratti così? Io non sono come lui! Ci teniamo a coinvolgere sua moglie. Credo che una settimana sia più che sufficiente per recuperare. Mia moglie non c'entra. E quanto mi è possibile. Bruno Todeschini. Elio Germano. Irene Jacob. Maria de Medeiros. Nessuna qualità agli eroi. Un film di Paolo Franchi. Non hai ancora smesso di odiarlo? No. Da marzo al cinema. Da marzo al cinema. Tra marzo al cinema. Grazie a tutti